Ciao da Afsim! Recriminazioni su recriminazioni da parte delle italiane, gli allenatori italiani, i giornali italiani per la condotta degli arbitri in Europa. Ci vogliono buttare fuori. Gli arbitri europei, gli arbitri della UEFA non aspettano altro che penalizzare le squadre italiane. A mio avviso fa già ridere così, ma lo so che tanti invece la pensate così. Ho letto praticamente tutti i vostri commenti, in particolare al mio post partita sull'Atalanta contro il Real Madrid. E ci sono stati anche quelli che in realtà hanno detto che era rosso per Froyler su Mendy. Lo hanno detto anche a ragion veduta, provando a spiegare l'episodio sulla base dell'interpretazione dei regolamenti. Per me non era rosso, era giallo, ma già il fatto che se ne possa discutere decreta che non è un errore clamoroso, che non dovrebbe quindi comportare uno stop, una sanzione per l'arbitro. E allora dobbiamo rileggere tutta la faccenda alla luce di un'altra prospettiva e soprattutto informandoci bene su com'è la situazione a livello di designazione arbitrale in UEFA e quindi in Europa perché vi anticipo che non c'è nessuno che vuole sbattere fuori le italiane. Ne parliamo quindi, vi chiedo però di iscrivervi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video se siete interessati al mio modo di rappresentarveli ed anche in generale a questo tipo di argomenti che di tanto in tanto torneranno nella programmazione di questo canale. In che senso non c'è nessuno che ci vuole buttare fuori? E perché fa già ridere così? Perché non vedo il motivo, sinceramente, con un calcio italiano così debole, ormai da anni, che non si affaccia sistematicamente nelle semifinali europee, se non appunto in maniera sporadica, per cui chiunque che sia la UEFA, che sia un'altra federazione nazionale, che ne so, quella tedesca o quella inglese, voglia, debba, senta la necessità, il bisogno, il desiderio di buttare fuori il calcio italiano. Cioè, ci buttiamo fuori da soli, e questo l'ha scritto in editoriale su Corriere dello Sport proprio ieri, è stato scritto, ma non voglio citare, ecco, in questo caso, giornali, giornalisti, per cui, diciamo, che non ho come riferimento, ma il discorso infatti che è stato fatto sui giornali è diverso rispetto a quello che vorrei fare io, cioè non è il fatto ci pensiamo già da soli ad uscire, il discorso è che non c'è proprio motivo, cioè vi trovate un motivo per cui ci vorrebbero sbattere fuori? A chi facciamo onestamente paura? Credo veramente a nessuno, e infatti dopo facciamo anche un po' un passaggio sui risultati che hanno fatto le italiane, che hanno fatto le spagnole, le tedesche, le inglesi e le francesi in questi turni tra Europa League e Champions League di questo mese di febbraio. Non solo, ma c'è un'altra questione molto importante da sottolineare, e cioè chi manda gli arbitri in Europa? Oltre al fatto che se vogliamo parlare, per esempio, del Real Madrid, non dobbiamo parlare dell'Atalanta, ma dobbiamo parlare del Bayern Monaco, perché anche il Bayern Monaco, come è capitato al Real Madrid, è stato apparentemente, apparentemente, perché mi dovete sempre trovare le prove di certa malafede, avvantaggiato da decisioni arbitrali, ma lo stesso Bayern Monaco è stato pure svantaggiato proprio in una sfida di qualche anno fa con il Real Madrid. E quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, anche quando le italiane in campo non ci sono, gli orrori arbitrali sono frequenti. Ma, dicevo, dobbiamo andare a capire chi è che fa le designazioni degli arbitri in UEFA, perché a questo punto viene fuori che la verità è probabilmente tutta un'altra, o meglio, il racconto giornalistico inizia ad essere incoerente e contraddittorio, perché non c'è nessun complotto anti-italiano. E già, perché fino al 2018, ad agosto in particolare, il designatore degli arbitri UEFA, lo sapete, è stato Pierluigi Collina, che poi, proprio ad agosto 2018, ha lasciato per motivi familiari, motivi personali, dopo che Roberto Rosetti era stato responsabile VAR al Mondiale 2018, quindi per la FIFA, ed è passato a fare adesso il designatore degli arbitri UEFA. Quindi adesso abbiamo un altro Italia, c'era Collina, e adesso abbiamo Rosetti. Quindi come fa ad essere un complotto anti-italiano? Collina prima e Rosetti dopo hanno voltato le spalle alla loro patria? Non lo so, mettetela come volete, ma è ridicolo, a mio avviso, che i giornalisti facciano questo tipo di narrativa. Cioè, voi lo sapete meglio del pubblico che magari non lo sa, che ci sono dei segnatori arbitrali italiani da anni, da anni in UEFA. E quindi, se volete fare una battaglia, non la fate contro il singolo arbitro, o contro questa UEFA cattivona, immateriale, inconsistente, che non si sa esattamente dove andarla a trovare, dove citofonare, ma fate i nomi. Cioè, dite, Rosetti non ha disegnato bene gli arbitri. Avete il coraggio di dirlo? Oppure dovete, come al solito, fare poi quella retorica mielosa del grande italiano che è arrivato ai vertici, come si è sempre fatto in Italia. Quando abbiamo mezzo responsabile di qualcosa in Europa, diventa un eroe. Quell'italiano è bravissimo, siccome sta lì, è bravissimo perché è italiano. Poi però, quando le cose vanno male, gridate al complotto anti-italiano. Ma vi rendete conto che non ha alcun senso questa cosa? E parlando di Collina, sapete cos'altro vi dico? Che proprio nel 2018, ma non era agosto, era aprile, Andrea Agnelli, dopo il famoso rigore di Benatia e l'espulsione a Buffon, per cui ci fu effettivamente scandalo giornalistico, cioè in Italia le prime pagine furono tutte contro l'arbitro e la decisione arbitrale, più che, diciamo, ignorare la cosa perché c'era la Juventus. Quindi in quel caso si solidarizzò con la Juve. Ma Agnelli disse, questi errori sono troppo frequenti, serve il VAR e bisogna cambiare il designatore degli arbitri. Agnelli lo disse ad aprile 2018. Chi è che fece eco ad Agnelli con la necessità di cambiare il designatore degli arbitri? Ben pochi. Poi il designatore se n'è andato per conto suo e adesso abbiamo Rosetti e la situazione è cambiata, non è cambiata, decidetelo voi, visto che state sempre lì ad analizzare gli episodi. Ma non è solo che quando Agnelli disse questa cosa non gli fece eco nessuno. Anche in tanti altri casi. Per esempio, dopo la partita di andata contro quel Real Madrid, che mancò un rigore su quadrato negli istanti finali, nei secondi finali, sul punteggio di 3-0, voi ricordate copertine di scandalo, prime pagine sulla decisione? No, le prime pagine, ve lo dico perché le sono andato a recuperare, erano tutte per la rovesciata di Ronaldo. E per carità, ci mancherebbe. Uno dei gol più belli della storia del calcio lo celebra in prima pagina. Però, siccome ogni volta che un'altra italiana subisce un presunto torto, parte la filippica, parte la tutela gratuita sui giornali, in quel caso non fu un fatto e c'era un rigore grosso con una casa su quadrato che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione perché un conto è perdere 3-0 in casa all'andato e un conto è perdere 3-1 e nessuno sostanzialmente ne andò a parlare. Ma perché del rigore su Ronaldo contro il Porto in questo mese di febbraio qualcuno ne ha parlato nelle prime pagine? Pochissimi, se ne è parlato pochissimo di questo rigore. E invece di questa espulsione, che sicuramente non c'era, sono stato il primo a dirlo, a Freuler si è parlato e se ne sta ancora parlando. E si dà anche alibi agli allenatori, si danno alibi agli allenatori perché poi io devo sentire Gattuso, che per carità se la prende con De Laurentiis è più un modo per attaccare ancora una volta la presidenza che non per lamentarsi con la UEFA, lamentarsi addirittura perché il Granada, signori, il Granada, perdeva tempo. Cioè, un'italiana, una squadra italiana, un allenatore italiano che va davanti ai microfoni in un contesto UEFA a dire, eh ma l'avversario perdeva continuamente tempo, io non l'ho vista la partita, do per buono quello che dice Gattuso, può darsi che siano stati veramente odiosi nelle perdite di tempo, ho capito, ma c'è un arbitro in campo, tu stai lì in campo, hai dei giocatori a cui quindi puoi dare delle indicazioni per sovvertire una determinata situazione. Ma poi, cioè, siamo talmente deboli che dobbiamo lamentarci se l'avversario perde tempo, che è una cosa legittima, cioè, è una cosa fastidiosa, ma finché l'arbitro glielo consente, è una strategia di campo, si può fare, si è sempre fatto, non mi pare nulla di scandaloso, soprattutto da un ex giocatore, da un allenatore così viscerale come Gattuso, non mi aspetto questo tipo di lamentela molto formalistica. E siamo ridotti a questo, vedete, a lamentarci continuamente, noi italiani, e a subire, a pensare, un complotto che sta solo nelle nostre teste e all'interno del nostro territorio nazionale. Se uscite fuori, nessuno se ne accorge che le italiane sono state messe, diciamo, in difficoltà e sono state, se si è tentato di mandarle fuori, sono state svantaggiate. Gli errori arbitrali in UEFA, cioè in campo in realtà, nel calcio e anche nella UEFA, ci sono sempre stati, ma sono a favore e contro tutti. Lo so che pensate che il Real Madrid, del Bayern Monaco, può darsi, può darsi che il Real Madrid sia stato favorito in tante occasioni perché è il Real Madrid, però intanto servono delle prove per poterlo dire. E poi, non ci va sotto solo l'Atalanta, ci va sotto chiunque eventualmente giochi con il Real Madrid. Quindi, non c'è questo complotto antitaliano. Anche perché, cosa hanno fatto le italiane poi in campo? Ecco, perché torniamo seriamente a parlare di calcio. Cioè, è inutile che facciamo queste recriminazioni se poi da parte nostra ci mettiamo, rincariamo la dose. Perché se le italiane fossero perfette in Europa, nell'approccio in campo, nella mentalità, nella voglia di vincere, anche nella calendarizzazione, perché se una squadra italiana pensa principalmente al campionato e poi capita la competizione europea che dà più fastidio che altro e se la giocano così, tanto per essere eliminati, di che stiamo parlando? Ci vogliamo anche lamentare dell'arbitraggio. Sì, il rigore per la Lazio, il rigore per la Juve, l'espulsione, va bene. Però, se non ci mettiamo il massimo dell'impegno, non avremmo meritato comunque. Io salvo solo l'Atalanta, perché l'Atalanta ha giocato al massimo delle proprie possibilità, considerando l'espulsione al ventesimo circa e l'infortunio di Zapata. Non era veramente possibile fare meglio e perdere 1-0 è stato anche oro da un certo punto di vista e sicuramente sarebbe stata tutt'altra partita senza l'espulsione che quindi ingiusta è stata determinante. Questo l'ho detto nel mio video post-partita. Però di qui a dire ce l'hanno con noi mi pare esagerato. Ma tolta l'Atalanta, come sono andate le cose? Allora, le inglesi in Champions League hanno vinto 3 su 3. Tutte e tre le inglesi hanno vinto. In Europa League hanno passato il turno agli ottavi 3 su 4. Quindi le inglesi sono state le migliori. Le inglesi. Che tra l'altro producono anche arbitri, diciamo, lasciamo stare, cioè anche quelli che vanno poi in UEFA, non è che provengono dalla federazione inglese, non è che siano il massimo. Come sono andate le tedesche? Due vittorie su quattro partite in Champions, nessuna delle due tedesche ha passato il turno in Europa League. E va bene. Insomma, è uno score che può capitare, però almeno due hanno vinto. Le spagnole. Una sola vittoria in Champions League su quattro partecipazioni, ma due squadre su tre hanno passato il turno in Europa League. Anche in questo caso, diciamo che tra Champions ed Europa League più o meno è un bilancio equilibrato che si compensa come quello tedesco. C'è una sola francese e una sola francese tra Champions ed Europa League ed è il Paris Saint-Germain in Champions che ha vinto, quindi uno su uno e il Lille in Europa League che ieri è stata eliminata. Quindi, anche qui bilancio sostanzialmente in equilibrio. L'Italia, zero vittorie su tre partecipanti in Champions, visto che appunto hanno perso, Lazio, malissimo, Atalanta, in maniera sfortunata, diciamo così, la Juve perché ci ha messo proprio di impegno di fare una partitaccia e poi due squadre su tre hanno passato il turno in Europa League. Quindi, un bilancio che più o meno ci può stare, ma siamo per dire l'unica squadra, non l'unica squadra, l'unica nazione che in Champions non ha vinto neanche una partita, l'unica che non ha vinto neanche una partita. Come la Spagna ne abbiamo due su tre e volendo simile all'Inghilterra che ne ha tre su quattro, quindi meglio di Germania e Francia per quanto riguarda l'Europa League, però ecco, non abbiamo fatto il miglior punteggio, questo voglio dire. E non è perché ci hanno penalizzato gli arbitraggi, ma pure il Milan, no? La Roma ha passato pienamente. Il Milan ha rischiato di non passare agli ottavi contro la Stella Rossa in Europa League. Il Napoli che perde all'andata e poi prende gol all'inizio della partita e poi dobbiamo star qui a parlare delle perdite di tempo degli avversari. Questo è il discorso. Allora, cerchiamo di migliorare come movimento calcistico invece di fare continue recriminazioni. Le recriminazioni andiamo a farle se del caso una volta che abbiamo dato il 150% in campo già con l'atteggiamento iniziale di essere una squadra che vuole vincere mettendoci un calcio proattivo un calcio propositivo senza quella paura di prendere gol senza quel timore dell'avversario e poi una volta che abbiamo fatto questo se ci capita l'episodio a sfavore possiamo anche fare tutte le campagne giornalistiche che volete per dire che l'Italia è penalizzata perché ci vogliono buttare fuori non si sa perché. Fino a quel momento cerchiamo di dare il massio perché ancora non lo stiamo dando e se ci sono dei risultati negativi in Europa per le squadre italiane è solo colpa delle squadre italiane e del movimento calcistico che non si impegna abbastanza nelle competizioni europee non fa abbastanza investimenti sulle rose e in particolare sui giovani. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra opinione nei commenti. Sono stato un po' duro diciamo di parte molto di parte cioè questa è la mia opinione so che non sarete d'accordo tutti ma appunto discutiamone. Like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per i prossimi contenuti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!